I carabinieri di San Cataldo e della stazione di Sera di Falco hanno arrestato due persone di Canicattì per furto aggravato in concorso. I due uomini, infatti, di 41 e 61 anni pregiudicati, sono stati beccati in flagranza mentre caricavano attrezzi e materiale ferroso accatastato nei pressi del magazzino di un agriturismo vicino alla miniera Bosco in contrada a Paforte di San Cataldo su un furgone, risultato poi essere di proprietà di uno degli arrestati. La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita al legittimo proprietario. I due uomini, difesi dagli avvocati Gaetano Costa e Giovanni Salvaggio, si trovano adesso ai domiciliari a disposizione della Procura della Repubblica di Caltanissetta.